Oh, ma hanno sbagliato un'altra volta l'ordine, oh mannaggia cincialli credo sia Ehm, signorina, scusi Sì? Per double frisky burger, se può vedere senza la caccola sopra? Oddio, e come c'è arrivata? Eh, ho appena scoperto Senta, può far veloce, c'è una piccola urgenza rettale Cioè? Mi sto a cacca sotto Guardi, è quasi pronto, puoi aspettare all'angolo? Grazie, anche a lei Sì, anche a lei, ma che cazzo ho detto? Oddio, che fiore di merda che ho fatto, ma penso che sono deficiente Non ne la posso fare, bella regà, io scappo, ma adesso a terrà la faccia